più avanti perché è molto inerente al tema paywall. Lo scenario del tutto gratis, poi in realtà non è vero che è sempre stato messo tutto gratis, è Repubblica per dire non ha mai messo tutto il giornale gratis su internet, anzi, però noi siamo abituati a usare Google gratis, a usare Facebook gratis, a usare tutti questi grandi strumenti gratis, c'è un meme che gira qui nelle slide, poi troverete se volete il modo in cui è nato questo meme, c'è un meme che gira su internet da un po' di tempo che dice se non stai pagando il prodotto in vendita sei tu e questo potrebbe far sorridere ma se pensate che tutte le volte che noi scriviamo su Facebook in qualche modo stiamo lavorando gratis per Mark Zuckerberg il cui unico obiettivo tutto sommato è tenerci lì dentro quanto più possibile, da cui Instant articles e compagnia bella, diventa un po' più chiaro capire cosa vuol dire che se non stiamo pagando per usufruire di un servizio siamo il prodotto.